Franca Isabel, ci troviamo alla ludoteca per festeggiare il Natale con i più piccoli. Tu eri molto emozionata? Non molto, tantissimo. Veramente sono sei mesi di lavoro e vedere questi risultati, sinceramente, chi non può essere emozionato? Sinceramente sì. Per te che vieni dal Venezuela, qual è il significato del Natale qui a Partinico? Allora, io che vengo da un paese che per ora è in guerra, anche se non si vede perché è tutto censurato, posso dire che dobbiamo dare grazie a Dio di quello che abbiamo, perché l'Italia con tutte le cose sbagliate quasi vive, quasi mangia, quasi può uscire, ma da noi questo per ora non esiste, ho la mia famiglia là e lo posso dire, è un paese in guerra. Dobbiamo dare grazie a Dio di quello che c'è qua e di essere qui. Cosa vuoi augurare ai tuoi parenti che sono rimasti invece nel Venezuela? Voglio augurare che passano un Natale in famiglia e anche se noi manchiamo, veramente manchiamo la metà, più della metà perché noi siamo tre figli qua, rimane solo un fratello là. Gli auguro semplicemente di avere un po' di pace, un po' di tranquillità e che il Venezuela riesca sinceramente a uscire di questa crisi. I tuoi progetti futuri? I miei progetti futuri è crescere, non solo fermarci alla materna e al nido, se no andare avanti oltre l'elementale, se il paese me lo permette. Qual è l'augurio che tu vuoi fare a queste splendide ragazze che lavorano con te? Il lavoro che gli vorrei fare è semplicemente di continuare a essere quello che sono e come si dimostrano perché sinceramente non ho niente da dire su di loro, hanno sempre andato a migliorare e questo per me non ho niente da, come si dice, non ho mai un motivo di rimprovero perché sinceramente loro sanno quello che fanno e amano il suo lavoro. L'unica maniera da dare avanti è questo, amare il suo lavoro e loro lo amano. Rosita, noi abbiamo raccolto non solo l'emozione di Franca Isabel ma anche la tua nell'intervento con i genitori. Bene, cosa rappresenta per te questo momento? Qual è stato il vostro impegno? Sì, sinceramente non sono riuscita a trattenere le lacrime, io caratterialmente sono molto sensibile e questo momento dopo tanti sacrifici, molteplici soddisfazioni, questo momento mi ha toccato veramente tanto. Abbiamo lavorato tantissimo, i bambini si sono impegnati un sacco perché se tutto è riuscito è grazie a loro, sono i veri protagonisti dell'evento. Noi ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo fatto del nostro meglio e insomma sono felice e siamo felici del risultato finale. Qual è il tuo messaggio a questi piccoli? Di continuare a crescere con noi intanto perché ormai ci siamo affezionati tantissimo a loro e io mi auguro che la scuola ovviamente accolga sempre più bambini in modo tale da crescere insieme. Un augurio che posso fare in questo periodo è un buon Natale sincero e insomma un felice anno nuovo.